La limitazione numerica dei calciatori disponibili per la partita odierna La limitazione numerica dei calciatori disponibili per la partita odierna Se poi vogliamo discutere sul fatto che quando siamo andati in vantaggio, tipo stasera, non siamo riusciti a chiuderla è un qualcosa che evidentemente è successo ed è successo anche questa sera ma non è certo l'assetto tattico che avrebbe consentito di chiuderla perché se fosse sempre così o fosse una certezza sarebbe anche di banale intuizione aperta e disponibile nei cervelli di tutti ma non è sempre così, tra l'altro mantenendo lo stesso assetto abbiamo sfiorato con più volte la possibilità di andare prima in vantaggio ma anche di andare sul 2-0 questo non è successo e la limitazione degli uomini che c'era anche questo è nella disponibilità di chiunque abbastanza evidente assolutamente non mi sento di dire che questa squadra ne ha subito le conseguenze anzi tutt'altro faccio i complimenti e ringrazio questi ragazzi per come l'hanno approcciata è stata veramente una partita bella contro un avversario forte che veniva da dei risultati negativi non vinceva da un sacco di tempo siamo andati in vantaggio a tratti siamo stati anche secondo me superiori nella ricerca del gol ma abbiamo concesso perché è una squadra che gioca questa è una squadra tra le squadre che gioca un certo tipo di calcio e quindi può mettere in difficoltà quindi complimenti ancora ai miei ragazzi e spero che non abbandonino l'idea di continuare su questa idea sia nell'intensità sia nella ricerca del palleggio del fraseggio, dell'azione da gol ovviamente ci sono delle cose da migliorare come in occasione del gol subito era una palla disponibile di facile lettura dove ci saremmo dovuti comportare in maniera completamente diversa però diciamo ci sta nel contesto magari stare anche sotto contro una squadra forte che nel girone d'andata sembrava imbattibile tutti quanti ne parlavano benissimo poi le cose cambiano in questo girone soprattutto nel girone di ritorno in questo girone G ma soprattutto nel partito di ritorno dove c'è una conoscenza maggiore dove cambiano gli interpreti e quindi io sono molto soddisfatto faccio i complimenti ai ragazzi e gli invito a continuare Davide Soccavo invece Stabia Channel la scelta di tenere Marotta in panchina semplicemente legata a motivi tattici o per problemi fisici? Marotta non è stato impiegato per un problema lombare e quindi ha avuto un problema di schiena per tre giorni non si è allenato e quindi è stata semplicemente una scelta dovuta a una mancanza di possibilità di metterlo in campo e tra l'altro mi dà la possibilità di complimentarmi personalmente con Ripa cosa che non faccio mai ma devo fargli i complimenti perché dopo tanto tempo sfoggiare una prestazione di tale spessore sia tecnico, tattico di intelligenza calcistica secondo me non è da tutti soprattutto per un ragazzo che ha saputo aspettare ed è sempre a disposizione non solo in campo ma anche fuori nel dispendere consigli a quelli più giovani Giuseppe Amato è il resto del calcio a luce dei numerosi calciatori indisponibili chi potrebbe recuperare e avere stretto giù ma questo non lo so dobbiamo sempre fare i conti con l'evoluzione e il miglioramento degli stessi calciatori quindi aspettiamo martedì dopo consulto sia con i fisioterapisti ma soprattutto con i medici ma innanzitutto con i ragazzi in maniera tale da poterli valutare a distanza di qualche giorno di recupero meritato adesso abbiamo una settimana tipo e quindi speriamo di poterci riallenare in maniera totale e magari anche di recuperare qualcuno Gazzettino Mesoviano Domenico Ferraro bicchiere mezzo pieno bicchiere mezzo vuoto per quale motivo? io vedo che al di là del bicchiere che ognuno poi vede a modo proprio certo passare in vantaggio non portarla a casa fa male ma all'inizio della partita probabilmente avremmo anche firmato viste le condizioni generali della Rosa e delle indisponibilità di un avversario che arrivava con una certa grinta con una certa voglia di mettersi in mostro di tornare sulla strada che nel girone d'andata che aveva visto i protagonisti e ballare sempre tra i primi tre posti quindi c'erano tanti presupposti per pensare che potesse essere una delle partite più difficili come del resto lo sono tutte però per quanto mi riguarda ripeto sono soddisfattissimo è un punto abbiamo guadagnato su alcune squadre che ci precedono abbiamo mantenuto su altre e su alcune abbiamo ancora distanziato quindi è stata una prova maschia matura di una squadra che sa quello che vuole Giovanni Donnarumma vivi centro per la situazione così precaria venutasi a trovare in termini di giocatori aduolabili il pari può essere salutato positivamente però un piccolo rammarico per aver preso il gol rimane eh bene certo rimane l'ho detto già prima prendere gol non è mai bello anche se vinci una gara 2-3-0 anche il prendere il gol della bandiera fa sempre male eh perché comunque si va sempre alla ricerca della perfezione ehm quindi in questo caso abbiamo addirittura subito il pareggio si poteva fare di più ora a mente calda eh ho avuto questa impressione ovviamente rianalizzando poi riguardando la partita sicuramente eh ci faremo un'idea più precisa e magari correggeremo se ce n'è bisogno quello che si può correggere Natale Giussi Vivi Centro buona prova dell'esordiente Caldone molto propositivo sulla fascia sinistra un giudizio sull'esterno si è stato un buon anche il suo un inserimento buono teniamo presente che non faceva gare da un sacco di tempo in un contesto nuovo in una condizione fisica secondo me ancora molto migliorabile per le caratteristiche sue la sintonia e la conoscenza con i compagni non solo di reparto ma anche con quelli del reparto avanzato deve essere molto migliorata c'era l'impatto della prima gara un po' di timidezza magari in alcune situazioni ma mi è sembrato che poi con il passare del tempo si sia sciolto e abbia fatto quello che gli abbiamo chiesto sicuramente da molti punti di vista ma hanno ancora migliorato tante cose Francesco Russo Campania Football sempre le buone prestazioni da parte della Juve Stabia con un possesso palla che a tratti fa anche divertire ma manca sempre l'ultimo passaggio sia in senso tecnico che mentale c'è qualcosa che non va? Ma non lo so se mentalmente in questa ultima fase può essere decisiva certo il ragionamento e i movimenti che consentono al possessore di palla di poterli trovare in maniera più semplice in spazi idonei per concretizzare fa la differenza però stiamo parlando sempre di una squadra che comunque lascia anche la possibilità di trovare questi spazi nel senso che se li costruisce con il possesso il possesso ovviamente se è fine a se stesso o se lo utilizziamo o lo utilizzassimo solamente per una perdita di tempo non è un qualcosa che mi piace o potrebbe anche essere funzionale ma noi nella fattispecie ne facciamo un'identità precisa perché penso e pensiamo che ci possa portare in una condizione diciamo più favorevole e vantaggiosa per arrivare in zona gol poi la fase conclusiva dipende da tante cose Giacchino Roberto Di Maio invece ti chiede Megapress tante gare ravvicinate nove assenze in cui si è giunto il forfait in extremis di Marotta che dalla tribuna ci è sembrato alzare bandiera bianca durante l'intervallo davvero difficile chiedere di più a questa squadra tra le note positive che continua ad esserci Berardocco è stato il cambio modulo a consegnare un calciatore rivitalizzato o si è sbloccato mentalmente rispetto al giorno di andata Marotta penso credo di averlo già spiegato non ha dato forfait in realtà c'era questa possibilità ma andava analizzata tra il primo e il secondo tempo la scelta era anche in funzione di trovare gli avversari in una condizione fisica più blanda e lui magari un dispendio di energia inferiore rispetto all'inizio di gara però nell'intervallo ha ammesso di non riuscire a muoversi come non come avrebbe voluto a muoversi semplicemente perché aveva questo blocco lombare quindi abbiamo evitato di utilizzarlo perché era non utilizzabile Berardocco dal mio punto di vista era importante anche prima ovviamente in un meccanismo nuovo in una condizione che doveva essere ritrovata per tutti per via del covid per via di un ritiro che è stato svolto in maniera alternata o alternativa diciamo così la conoscenza il coraggio per di prendersi queste responsabilità perché oggi il centrocampo tutti quanti li riconoscono questa capacità noi lo abbiamo visto qualche mese fa quindi avevamo già questa considerazione del ragazzo prima del calciatore poi quindi per me non è assolutamente un aspetto nuovo e non è una novità deve continuare sta crescendo anche la sintonia con Vallocchia i movimenti completamente diversi rispetto a quando giocavamo con i tre sulla linea mediana e quindi si va ad affinare anche questa conoscenza individuale che all'interno di tante partite fa la differenza grazie mister prego